salve a tutti da casa del papi in piena notte anche se l'orologio fa le 9 e mezza ma è fermo vi rendete conto abbiamo scoperto che dietro l'orologio c'è un gecko che sta vedete lì che si vede appena appena che sta puntando la farfalla forse riusciremo a testimoniare questa catena alimentare in questo preciso istante il gecko fa capolino dietro l'orologio è notte fonda l'orologio fa le 9 e mezza ma non solo le 9 e mezza vediamo gli esiti di questo evento notturno a casa del papi vediamo un po' se stavolta ce la facciamo e speriamo soprattutto nella batteria piena notte a casa del papi c'è forse un gecko nascosto dietro all'orologio che presto uscirà per prendere la farfalla non so se è una cosa bella o se è una cosa brutta però questa si chiama catena alimentare e su di loro non possiamo dire nulla vabbè eccolo sta partita l'ho visto da dietro l'ho visto l'ho visto l'ho visto abbiamo visto l'attacco sferrato dal gecko nei confronti della farfalla che ormai c'è più ormai è andata ce n'è un'altra che gira qui di farfalla e se li mette in posizione è veramente una bella testimonianza da un documentario in diretta da casa del papi iscriviti al canale